Ciao, sono Nahme e vengo dall'Iran. Mi sono trasferita a Roma un anno e mezzo fa. Lavoro come insegnante d'inglese, mi trovo bene qui in Italia. Roma è una città bellissima, piena di monumenti storici e culturali, ed è veramente difficile scegliere un posto preferito qui a Roma. Comunque, uno dei posti veramente spettacolari di Roma è il posto a cui mi trovo di fronte, la Fontana di Trevi. Questo monumento è stato costruito nel Settecento ed è situato nel cuore di Roma tra Piazza Spania e Pantheon. C'è una storia su questo posto che dice che lanciando delle monete in questa fontana si realizzano i desideri. Normalmente qui è sempre pieno di gente e là dentro è sempre pieno di monete. A proposito, qui intorno ci sono anche tanti bar storici. Adesso io vado a prendere un caffè. Ciao!